Mancano solo due giorni al termine delle iscrizioni per il corso serale dell'anno scolastico 2015-2016 presso l'Istituto per Geometri De Petrinis di Sala Consilina. Una grande opportunità offerta per la prima volta ai cittadini del Vallo di Viano nel campo della formazione. A partire dalla terza classe, istituita al De Petrinis, sarà possibile, alla fine del corso di studi, sostenere l'esame di Stato e conseguire il diploma per geometri. Le lezioni si svolgono in orari serali, dalle ore 17.30 alle 21.40, da lunedì al venerdì. Si tratta insomma di un'importante occasione per chiunque voglia conseguire il primo diploma scolastico. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre. Ne abbiamo parlato con il dirigente scolastico Maria Luisa Buono. Questa è una bellissima opportunità che viene data ai cittadini e cittadine di sala di tutto il Vallo perché questo in realtà è l'unico corso serale che c'è nel Vallo e quest'anno è una terza geometri. Possono accedervi tutti coloro che a qualunque titolo sono usciti dal ciclo dell'istruzione e della formazione. Quindi anche persone che molti anni fa hanno lasciato la scuola e anche che abbiano un altro diploma e vogliono concorrere appunto per avere il diploma di geometra oppure che hanno lasciato la scuola in qualunque altro settore, segmento dell'istruzione. Volevo dire che le iscrizioni che sono appunto riaperte entro e da concludersi entro il 15 ottobre sono per quest'anno scolastico e questo ci tenevo a sottolineare perché è un'opportunità che il Ministero sta dando a coloro che vogliono riprendere gli studi e che è molto particolare cioè quello di potersi iscrivere già a anno iniziato per lo stesso anno. Quindi vi aspettiamo qui al geometra di Sala Consilina per una nuova opportunità della vita.